Voglio stare in Sicilia non per fare passeggiate ma per stare dentro i luoghi dove si produce la ricchezza, dove si è proprio oggi mi piace Quindi a Bagheria non vi lanciamo il segreto sui stedi di circolazione e per l'opera che non è arrivata niente Voi proviamo nella fase di prima parte e soprattutto voglio ringraziare i produttori Grazie per la visione